Buonasera, benvenuti al Tg7 Basilicata. Non si arrestano gli assalti agli uffici postali. Dopo Filiano, Rionero in Vulture e Lavello è toccato alla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna presente a Venosa. Il metodo è sempre lo stesso, si tratta di esplosivo. Ingenti i danni. Negli ultimi dieci giorni solo a Venosa ci sono stati inoltre dieci furti in appartamenti. La situazione è drammatica. Per questa edizione è tutto, ci ritroviamo nelle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione e arrivederci.